Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Zio Alfix Siamo in un TSL, in un TSL Warride costituito da CCCCCC Non so di cosa si tratti raga, anche perché la miniatura non era ben visibile E quindi vediamo un po', vediamo un po' di vedere cosa si tratta una TSL Però vedo un giro quindi non so, oh cazzo raga, oh cazzo, questa è una challenge raga Questa è una, porca Eva raga, oh cazzo raga, oh cazzo raga La faccia di prima raga, attenzione, attenzione, di prima ragazzi, di prima, di prima, di prima, di prima, di prima Attenzione, incredibile, incredibile davvero raga, non so se sono stato fortunato o altro Ma l'ho fatta di prima ed è solo un giro, ah no devo farlo di nuovo, affanculo Ok raga, ok raga, challenge accepted, challenge accepted da parte di Alfix raga Non è così difficile in realtà, no no no, mamma mia raga, no no, che avevo recuperato Porca, potevo fare proprio il record, cazzo raga potevo fare veramente il record Mannaggia la miseriaccia, potevo fare il record della pista credo con quel, con quel tempo Senza sbagliarle una volta, cioè, mica male, no no no, no, ok raga Attivanti su questo warride qui, sull'attivanti mi sto trovando benissimo Ah ma in realtà non è tanto difficile Posso confermare, ovviamente vi lascio il link in descrizione, voglio vincere sta gara raga Non vorrei mai che qualcuno piglia e mi recupera ora, piglia e mi recupera ora No ragazzi, andiamo così Chiudiamo in prima posizione, benissimo, benissimo veramente Ci vediamo al prossimo video perché questa è durata pochissimo sta gara Ed eccoci qui ragazzi alla seconda gara Mary Stuntmas E vediamo un po' di vincere questa carrozza con la nostra T20 Che è una delle migliori auto ragazzi sulla neve, ve la posso consigliare E anche perché qui era consigliata sia con l'Osiris sia con la Zentorno Che cazzo di start è questo ragazzi? A caso, proprio random, senza contatore, senza countdown Partiamo con la nostra T20, questa curva già infamico Cazzo, dove cazzo è andato quello? Diretto, diretto proprio nel muro, così a caso Cioè senza nessun filologico Ok, 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 perfetto, perfetto ragazzi Le curve sono molto più difficili, sapete, sulla neve da fare Anche le traiettore da prendere Quindi è molto importante prenderle e farle in maniera perfetta No, 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 no ragazzi, non ci credo Ma ragazzi, ma avete visto quello che è successo? Ma avete visto quello che è successo? Nelle cazzo delle gare mie No, cazzo, ma questo santo è impossibile qui Mamma mia, ragazzi, sulla neve No, che ne sapevo io Veramente di tutto succede nelle mie fottute gare, raga C'è gente che se ne va No, che cose questi pali? Porca misera, non mi fate bestemmiare Che poi dico a me devo infarcire di bip i miei video Vaffanculo, sbagliati io qua, dai L'ammetto E vabbè ragazzi, sarà un'altra gara di sofferenza Perché non so neanche se qualcuno ci è riuscito, eh In realtà, perché mi vedo al quinto posto addirittura Come, non penso sia Oh, no, tutta questa gente davanti mi dà fastidio, raga Oh, oh, oh Ci siamo, ci siamo, ci siamo Quarto posto Ok, quarto posto, quarto posto Va bene, ragazzi Pensavo peggio, eh Pensavo peggio Vediamo di chiudere questo stunt pazzesco Così molto random Ok, perfetto L'abbiamo chiuso bene Abbiamo giusto uno dietro di noi Quindi dobbiamo lottare Va bene, anche perché Dove devo andare ora, raga Non si vede un cazzo Non si capisce un cazzo Usiamo anche noi al nostro compagno Siamo terzi Abbiamo 49 secondi dal primo Quindi il primo amici L'ha fatto la prima Bene così Complimenti a lui Abbiamo di dietro di noi Lollo a Genna Che salutiamo No, 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 no Dobbiamo andare più veloci di lui Curbona Qui freniamo Vediamo Lui non frena Io sì Ah, c'era il container Che guidava Quindi potevo anche frenare di meno, raga Perfetto Sì, 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 ragazzi Ci siamo, ci siamo Iniziato il secondo giro E noi proviamo a recuperare Ok, ok, no Bene, bene, ragazzi Qua ha avuto culo Per la prima volta dopo millennia Ha avuto un bel po' di culo Ok, speriamo che qualche palo Non ci trolli di nuovo Mamma mia, ragazzi Eccoli qui i primi due Penso Spero Cerchiamo aderci a prendere Questa fottuta Prima posizione Dai, dai, dai T20 Dai, t20 Dai, t20 Che non è difficile Dai, dai No, 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 no Non ce la faccio a farlo No, cazzo Hanno chiuso in prima posizione Complimenti a Dragon Chaos Complimenti mickey L'ha fatto praticamente tutto alla prima Perché due minuti e cinquantasei Porco zio Ho un ottimo tempo Allora Vediamo un po', ragazzi Vediamo di farlo anche noi ora No, raga, dovrei fare una cosa impossibile Concentrazione massima, ragazzi Concentrazione massima Quello è il punto cruciale Dopo il warride qui Dopo il warride qui Dopo l'appoggio Sul container Ok, ok Ci dovremmo essere ora Appoggiamoci Ok Ok, perfetto Ci siamo, ci siamo Quarto posto, però Dio santo Quarto posto Vabbè, raga Va bene così, va bene così Dai, non ci lamentiamo C'è qualcuno qui sotto di me Com'è possibile? Vediamo un po' se Magari, magari No, non è lui, non è lui Black Pro è lontanissimo Quindi sarà molto difficile Prendere il podio, raga Salutiamo il nostro compagno lì Che ci ha aspettato Vabbè, sarà un doppiato Ok, curve finali, raga Vi invito ovviamente A lasciare un like Per questa doppia gara Ci vediamo Ovviamente al prossimo video Non mi stavo aspettando Questo, ok, perfetto Quarto posto questa volta Ci vediamo al prossimo video, ragazzi Un bacione E buone feste Ovviamente come sempre Dal vostro Gioffis Ciao